Nel piccolo regno di Ben e Olli l'avventura di oggi è tutta da leggere. Finalmente in edicola la rivista ufficiale con tantissime storie, giochi, sticker, per imparare e divertirsi con Ben e Olli e tutti i magici amici. Con il primo numero e il telefonino con la vagnetta. Solo 3,50 euro.